la civiltà degli assiri si sviluppò in mesopotamia dal 2000 avanti cristo al 612 avanti cristo inizialmente gli assiri si stabilirono a nord della mesopotamia in un territorio poco adatto all'agricoltura come gli ittiti gli assiri sapevano costruire armi di ferro ed erano temuti dai popoli vicini perché il loro esercito era molto forte l'impero assiro raggiunse la sua massima espansione nel 650 avanti cristo con il re assurbanipal che trasferì la capitale a ninive assurbanipal abbellì la città di ninive con grandiosi edifici e magnifiche sculture durante il regno di assurbanipal ninive raggiunse l'antica babilonia per bellezza e splendore assurbanipal era noto per il suo coraggio in battaglia ma fu anche uno dei re più istruiti e studiosi dell'antichità da bambino infatti assurbanipal aveva ricevuto un'educazione da scriba e aveva imparato a leggere e a scrivere a leggere e a scrivere